Il libro di Lubavitch aveva composto varie melodie chassidiche. Il suo studio, quando lo studiava, studiava sempre con una melodia. E spesso, in mezzo al suo studio, o in mezzo al che scriveva un discorso chassidico, oppure qualche risponsa halachica, legale, si fermava e cantava una di queste melodie. Racconta il Rebbe Presidente. Mio nonno, il Rebbe Marash, ha raccontato che dal canto del Zemach Tzedek poteva sapere di che cosa si stava occupando in quel momento. Si stava occupando di legge ebraica, o di filosofia ebraica, o di chassidut, o di kabbalah, eccetera. Salome a tutti. C'è un detto che il legume è il pennino dell'anima. L'anima si esprime tramite la melodia.